E adesso sul palco Nadia Panato. Eccoci, ciao a tutti. Bene, sono usato le slide. Mi presento... Guardo qua, va bene così? Eccomi. Bene, microfono. Ciao a tutti. Mi presento velocemente per chi non mi conosce o non ha letto la bellissima intervista di Silvia sul blog. Io sono Nadia e mi occupo di comunicazione, oltre a essere la mamma di Pietro, che ci teneva molto che lo dicessi oggi. Mi piace però dire che progetto spazi di comunicazione. In pratica faccio in modo di far uscire allo scoperto tutto il bello che c'è dentro le aziende, i progetti, le persone e di trovargli uno spazio che lo comunichi in modo efficace. È vero, ultimamente parlo sempre di spazi, e lo faccio perché credo fortemente che esistano spazi creati apposta per l'uomo, che riescono a trasmettere i giusti messaggi, a farlo stare bene, e a dare appunto il giusto messaggio a chi li vive e a chi si trova a frequentarli. Oggi parliamo proprio di luoghi che comunicano, perché la prima impressione che date anche nello spazio in cui lavorate, dove li accogliete, è quello che conta. Ma partiamo dall'inizio. Cos'è uno spazio? Questo è uno spazio, tra l'altro bellissimo, questo è il Solki Institute di La Hoya, progettato da WICAN. Anche questo però è uno spazio, è uno spazio di condivisione, probabilmente un co-working. Anche questo è uno spazio, è un sito web, è uno spazio dove voi progettate i percorsi che i vostri utenti devono fare all'interno per trovare le informazioni, o ancora meglio, per trovare quello che voi volete che trovino. Anche un volantino è uno spazio dove organizziamo le immagini, le informazioni, i testi. E anche un libro è uno spazio dove le parole, gli spazi, i titoli vengono organizzati e progettati perché la relazione con il lettore sia ottimale. Ed è proprio la parola relazione quella su cui voglio focalizzarmi nel momento in cui parliamo di spazio. Perché se ben ci pensate, lo spazio è una relazione tra pieni e vuoti, tra dentro e fuori, tra parole e silenzio. Lo spazio diventa fisico e assume senso quando noi lo percorriamo, quando dentro vi accade qualcosa. Mi dicono dalla resia di avvicinare il microfono. Così? Perfetto. RK, dove siamo arrivati? Parlavamo di relazione. Vuoti e pieni, ok. dicevamo, lo spazio assume senso quando entriamo in relazione con lui. Di nuovo, relazione vuol dire connessione e vuol dire comunicazione. Come comunica uno spazio? In maniera molto istintiva. Provate a guardare queste due immagini. Quale dei due uffici scegliereste per affidare l'incarico al vostro commercialista di fiducia? Quale invece scegliereste se doveste affidare, che ne so, un progetto creativo, un progetto grafico? Altro esempio. Quale di questi due negozi vende gli abiti più costosi? Ok, qui vi ho fatto un tranello. Sono entrambe due boutique. Una è di Philippe Lane, quella è in marmo, l'altra è un temporary store di Valentino. Però mi aiuta a introdurre un altro elemento e cioè che la scelta dei materiali, dei colori, degli arredi dà un'idea immediata di noi e del nostro posizionamento. Quindi il fatto di aver scelto del marmo dei colori scuri vi ha dato immediatamente una sensazione di eleganza, di qualcosa di più costoso. Questo accade anche quando qualcuno entra nel vostro spazio. Il tuo spazio parla di te e del tuo brand e dà subito un'impressione del tuo posizionamento. E allora, se prestiamo così tanta attenzione quando ci facciamo progettare il sito, quando progettiamo la nostra immagine, l'identità visiva, quando pensiamo ai biglietti da visita, perché accade che non facciamo altrettanto con lo spazio in cui viviamo, in cui magari riusciamo ad accogliere i nostri clienti? Vi faccio vedere qualche esempio concreto di studi esistenti per calarci ancora di più nel tema. Quella che vedete è l'identità visiva di uno studio di design di Valencia. Quindi la loro carta intestata, i loro biglietti da visita. Questo è il loro ufficio. È immediatamente evidente a tutti, anche se non siete esperti di architettura e design, che stiamo parlando delle stesse persone. Tornano i colori, tornano le forme, torna il mood e il carattere che stanno comunicando. Io, se dovessi scegliere uno studio di design per affidare un incarico, sarei molto propensa ad affidarmi a loro, visto la cura e l'attenzione e la creatività che hanno messo per progettare proprio il loro spazio. Questo invece qualcuno lo conosce? Questi sono gli uffici di Alessandra Silvia, Digital Update, progettati dalle ragazze di Officina Meme, che sono qui tra di noi. Se qualcuno di voi si ricorda l'ospizio dell'anno scorso dove davo delle piccole note di attenzione per progettare i propri uffici, vedete come qui torni tutto. C'è un uso accurato della luce, ci sono arredi ergonomici, ci sono spazi organizzati in modo flessibile per poter cambiare le attività all'interno. Vedete, lì è stato addirittura montato un set per fare delle riprese. C'è un uso del colore attento, elegante, che guida l'utente. Ci sono... Ecco di qua. Ed è lo spazio molto pulito, ordinato e anche questo spazio mi fa pensare che chi lavora qui dentro abbia la stessa attenzione e la stessa cura anche nel lavoro che fa quotidianamente. E poi c'è un'altra cosa che invece volevo farvi notare oggi che è questa. Qui c'è lo spazio di Alessandra e lì c'è il sito di Alessandra. Pare evidente che gli stessi colori polverosi degli azzurri, dei grigi e soprattutto le stesse notte d'accento che sono il carattere di Alessandra, questo rosso che torna e i colori vivaci tornano anche nel suo spazio. Io riesco a identificarlo immediatamente con lei e lo stesso accade per Digital Update. Altro esempio, sempre di una creativa, questa è Ilaria Chiaratti, lei nella vita fa l'intero stylist, fa fotografie di interni, sotto in basso a destra vedete il suo logo e tutto attorno c'è il suo spazio. Mi pare evidente che stiamo parlando della stessa persona. anche qui la palette ritorna e diventa tridimensionale. Ora non dico che tutti voi dovete cercare di creare uno spazio così perché non è facile calibrare i colori in questo modo però se vi fate aiutare può diventare un buon modo per lasciare un'impressione per farvi ricordare di voi. Altro esempio, questo è sempre un'agenzia di comunicazione e vedete che ha un carattere molto pop. Loro infatti gestiscono la comunicazione di molti parchi tematici. Altra nota, vedete che tutte le pareti sono decorate, sono decorate con i loro lavori. Cosa fa pensare a me, cliente? Che quello che hanno studiato per me sia un semplice volantino, un poster, una comunicazione, una pubblicità, da loro è considerata in modo talmente importante e talmente artistico da diventare ciò che decora le loro pareti. Quelli sono tutti i lavori che hanno fatto i più importanti che hanno fatto in 40 anni di attività. Qua invece arriviamo nello spazio di un'azienda. Secondo voi cosa produce questa azienda? Esattamente. Produce finestre per tetti. Nella loro comunicazione uno degli aspetti più importanti è proprio la luce naturale e il fatto che la luce e che la natura possano entrare in casa. infatti vedete che dalle finestre cosa si vede? La natura esterna. Anche questo è uno spazio che già parla di sé senza che i valori debbano essere esplicitati. Vi lascio qualche nota perché è bello vedere progetti di altri magari fatti da architetti però dobbiamo calarci nel pratico. Quindi cosa hanno in comune tutti questi spazi? Sono ordinati e puliti. Il fatto che voi facciate attività creative non giustifica che ci siano tazze, tazzine, dita di polvere o fogli sparsi qua e là. Si può essere creativi e in qualche modo disordinati senza dare un messaggio di incuria e di trascuratezza. c'è un grande studio dei percorsi e di come sono disposti gli arredi. Quando pensate di arredare il vostro spazio provate a rendere tridimensionale quello che voi già fate quando studiate la vostra customer experience. Cosa succede quando il cliente viene a trovarvi? Quando suona il campanello e li aprite cosa vede? Poi gli offrite un caffè dove lo fate? usate una tazzina in plastica o una tazzina di ceramica? Avete un luogo per discorsi informali più rilassato con un divanetto o si sta sempre alla scrivania? E poi quando fate Skype call registrate storie o registrate video cosa si vede alle vostre spalle? Le luci adeguata? Siete in ombro o sembrate il Cristo redentore tutto illuminato? Quello che c'è alle vostre spalle è una ebreria piena vuota tutto questo dà dei messaggi è che spesso non siamo così allenati a rendercene conto terzo l'uso del colore tutti voi o molti di voi hanno un'identità visiva avete studiato il vostro logo avete studiato i vostri biglietti da visita questo vi può venire d'aiuto nel momento in cui dovete scegliere gli arredi o gli accessori per il vostro spazio io non dico di fare come ha fatto Ilaria o come hanno fatto anche Alessandra usa molto colore non tutti siamo allenati per utilizzarlo in modo equilibrato ed elegante potete se non siete sicuri stare sui colori neutro per il tutto ma giocare con gli accessori ci sono le tende ci sono i cuscini ci sono tovagliette ci sono le piante i fiori ci sono anche tutti gli accessori da scrivania che spesso ci piace utilizzare anche se non sono indispensabili per il nostro lavoro profumi e odori è vero non si vedono dalle immagini però trovo molto difficile pensare che negli spazi che avete visto ci sia un odore sgradevole se ben ci pensate l'odore è una delle cose che si connette in maniera velocissima alla vostra ricordo alla vostra memoria una persona con un odore sgradevole vi resta impressa un ambiente dove c'è odore di stantio dove c'è odore di chiuso vi resta impresso allo stesso modo e non è mai piacevole basta semplicemente aprire le finestre areare molte volte al giorno che tra l'altro vi fa anche bene perché butta fuori tutte le sostanze inquinanti che si accumulano e potete usare delle profumazioni cercate di sceglierle naturali quindi oli essenziali e non magari quelle profumazioni chimiche che alla fine della fiera vi fanno più male che semplicemente aprire una finestra e poi le piante non mi stancherò mai di dirlo le piante puliscono l'aria danno buon umore e sono sempre una bella cosa da vedere ci fanno sempre stare bene nota di attenzione vanno messe le piante giuste nel posto giusto perché poi entrare in un ambiente dove le piante ci sono ma sono mezze malaticce e mezze morte comunque non è un segnale di cura e di attenzione per quello che si fa e per il nostro lavoro questi sono un po' i consigli molto semplici che tutti voi potete applicare qualcuno mi dirà tanto io uso solo Skype no cari non vale e allora se su questo qui non possiamo farci niente dovete chiudere la porta però su questo sì tutti voi prima di iniziare una Skype call vi guarderete alle spalle nel momento in cui fate una prova di inquadratura per favore o vi spostate o sistemate non ci vuole tantissimo basta scegliere un altro posto e poi ho scoperto una cosa facendo queste slide che Skype ci viene in aiuto ha messo la possibilità di sfocare lo sfondo da febbraio è cosa nuova quindi con questa pillola io vi saluto vi lascio in realtà con questa citazione che mi piace sempre portare e cioè che arredare non significa fare scenografie non significa fare belle immagini per le riviste ma creare qualità di vita e bellezza che nutre l'anima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti